Buongiorno a tutti, sono Veronica e faccio parte dello staff Med Lab. Il nostro laboratorio con sede a Santa Croce Camerina e Scogliti propone per questa primavera diversi check up, con lo scopo appunto di andare ad individuare il stato di saluto del paziente, svolgendo appunto delle indagini riguardanti degli esami amatici, dai più generali a quelli più specifici. Il check up è da noi proposti, comprendono un check up generale, un check up anemia, un check up tiroideo, un check up andrologico e infine un check up per quanto riguarda i markers funerali. Le analisi del sangue sono uno strumento molto importante per andare a migliorare lo stato di salute del paziente e possono fornire informazioni molto importanti al medico per la formulazione di un'adeguata diagnosi, ma anche per stabilire appunto un adatto per il piano terapeutico. I nostri laboratori analisi sono aperti tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a Scogliti in via Napoli e a Santa Croce Camerina in via Cristoforo Colombo. Veniteci a trovare e iniziate anche voi il vostro percorso di prevenzione. Grazie a tutti!